Siamo governati da incompetenti, senza coraggio, senza visione e senza rispetto. Il discorso del Premier Conte di ieri sera è solo la punta dell'iceberg di una situazione insostenibile. Di questo passo il tracollo del sistema paese è vicino a partire da quello dell'economia. Anna Lapini e Franco Marinoni, rispettivamente presidente e direttore generale della Confcommercio, si scagliano contro le misure previste dal nuovo decreto illustrato ieri dal presidente del Consiglio. In questi due mesi abbiamo fatto la nostra parte con responsabilità, prosegue la presidente di Confcommercio. Ora però la misura è davvero colma. Con il discorso di ieri Conte ha messo un'altra volta all'angolo il mondo delle imprese, rinviando ancora una volta la ripartenza, ma soprattutto, ed è quello che più ci preoccupa, senza illustrare piani concreti di sostegno e di modulazione del futuro prossimo. Quello che più sconcerta, aggiunge Franco Marinoni, è che gli interventi di sostegno al sistema economico restano poco più che proclami, credito a fondo perduto, moratoria fiscale e su tutti i pagamenti, e sostegno al reddito, di questo ha bisogno l'Italia, ma anche di progetti seri per la ripartenza. Non ci condannerete comunque al fallimento, trovandoci inermi, conclude la presidente di Confcommercio Toscana. Sul piede di guerra anche l'altra associazione di categoria, il direttore di Confesercenti Mario Checaglini e il presidente Mario Landini sottolineano come siano stati commessi grossolani errori, ma puntano anche il dito contro la mancanza di coraggio da parte del governo. Si tratta di un provvedimento, afferma Mario Checaglini, che riguarda esclusivamente le industrie. Si dispone la chiusura sino al 18 maggio per tutto il commercio e fino al 31 per gli esercizi pubblici, senza indicare contemporaneamente le misure di sostegno alle imprese. La mancanza di aiuti a chi è fermo a casa e non può lavorare indigna ancora di più. Con il decreto, aggiunge Mario Landini, non è stato infatti considerato chi è a casa senza reddito e senza prospettiva. La Toscana, tra l'altro, è più avanti di altre regioni nel contenimento al coronavirus. proseguono, avremmo potuto quindi essere il luogo dove poter iniziare a riaprire le attività. La mancanza di considerazione da parte del governo, concludono, ci spinge a considerare che non sia stato rispettato il diritto fondamentale a poter lavorare per sostenere le proprie famiglie.